Bentornati con le notizie di Videonews. Emozionati e felici, 86 giovani cadetti dell'Accademia Aeronautica hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana. Il nostro servizio. Si è svolta a Pozzuoli il 21 marzo la cerimonia di giuramento e battesimo degli allievi del corso Eolo VI. I giovani che hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue istituzioni provengono da tutte le regioni d'Italia e sono stati selezionati tra circa 4.500 candidati. L'evento si è svolto alla presenza del Ministro della Difesa, Onorevole Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavodragone e del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea, Luca Goretti. Come da tradizione, durante la cerimonia è stata celebrata anche la giornata in onore delle medaglie d'oro al Valor Militare, con la lettura del messaggio augurale inviato al corso giurante dal gruppo dei decorati di medaglie d'oro. Presente per l'occasione il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al Valor Militare, che nel suo intervento ha rivolto un messaggio di auguri per i giovani cadetti. I due momenti salienti, la lettura della formula del giuramento ed il battesimo del corso sono stati arricchiti da un sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale che ha tenuto con gli occhi all'insù tutti i presenti. Il corso che ha giurato è composto da 92 frequentatori, 48 piloti, 11 del ruolo delle armi, 16 del corpo del genio aeronautico, 9 del corpo di commissariato e 8 del corpo sanitario aeronautico. Nel loro percorso accademico i giovani cadetti sono affiancati da 6 allievi stranieri provenienti da 6 diverse nazioni Djibouti, Burkina Faso, Etiopia, Libia, Niger, Tunisia, in base agli accordi di cooperazione internazionale nel campo della formazione. Nel campo della formazione direi che è importantissimo fidelizzare paesi partner o alleati nei nostri istituti e di fatto lo Stato Maggiore Difesa da ormai da anni ha dei piani di cooperazione secondo i quali ogni anno vengono invitati presso le varie accademie dei frequentatori stranieri. Anche in Accademia Aeronautica quindi al pari delle altre accademie abbiamo personale straniero che viene per essere istruito nei vari ruoli e poi ovviamente ritorna nel proprio paese d'origine nelle proprie forze armate ed è un messaggero o comunque un punto di riferimento per noi in futuro. L'Accademia Aeronautica è un istituto a carattere universitario che provvede al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali dell'Aeronautica Militare un compito importante per la Forza Armata che investe sui giovani che sono il futuro dell'organizzazione. Oggi è un giorno di festa per l'Aeronautica Militare perché 92 per i ragazzi entrano a far parte di una compagine vincente come l'Aeronautica Militare una Forza Armata giovane dentro anche se ha più di 100 anni ma proiettata verso il futuro. Ecco loro rappresentano il nostro futuro la nostra forza propulsiva e non potiamo che essere qui tutti quanti a onorare questo giuramento di fedeltà alle Repubbliche Italiane che questi ragazzi hanno pronunciato con forza e vigore davanti al passaggio della fattura acrobatica che ha svelato questo bellissimo tricolore. Questo per noi è un motivo di soddisfazione e ne sono veramente fiero. Vent'anni fa la consegna a Grosseto del primo caccia Eurofighter alla Forza Armata. Era il 16 marzo 2004 quando l'Eurofighter Typhoon atterrò al quarto stormo primo reparto operativo dell'Aeronautica Militare a ricevere il velivolo. Nei giorni scorsi proprio al quarto stormo un evento per ricordare l'arrivo del caccia europeo che rappresenta oggi la spina dorsale della difesa aerea nazionale. Un assetto pregiato che con oltre 200.000 ore volate al servizio della collettività in Italia e all'estero e 135.000 sortite sorveglia e difende i cieli italiani e dell'Alleanza Atlantica. Un'attività quella della difesa aerea che è nel DNA della Forza Armata. Una peculiarità al servizio del paese che negli anni si è modificata grazie alla tecnologia diventando sempre più efficace. Un sistema d'arma che nasce principalmente per supportare la difesa aerea che continua a supportare oggi sia in Italia che nei teatri operativi ma negli anni attraverso l'implementazione di una serie di capacità e di modifiche il sistema d'arma ha dimostrato una piena compiutezza dal punto di vista multiruolo. Oggi continuiamo ad assicurare la nostra presenza in tutta una serie di teatri operativi in Europa ma anche nel Middle East e siamo in grado praticamente di esprimere una robusta capacità multiruolo del sistema d'armi. Chiaramente ci sono ancora margini di sviluppo per il futuro che stiamo esplorando con l'industria e con la Forza Armata per massimizzare l'impiego della tecnologia che ci è stata affidata. I primi velivoli furono assegnati al nono gruppo caccia e a riceverli fu l'allora colonnello Alberto Rosso comandante di Stormo e poi capo di stato maggiore dell'aeronautica che ai nostri microfoni ha ricordato quello storico avvenimento. È stato un cambio epocale siamo passati con tutto il bene che voglia dell'F-104 dalla preistoria alla fantascienza e non passo solo. Abbiamo saltato una generazione intera di aeroplani quindi siamo passati da una macchina romantica bellissima che appaga il pilota perché è un piacere da volare a una macchina professionalmente finalmente seria e adeguata ai tempi quindi l'Aerofighter è stato veramente un cambio rivoluzionario all'interno della Forza Armata lo è stato da un punto di vista ordinativo da un punto di vista di capacità da un punto di vista anche infrastrutturale e oggi vediamo ecco nell'Aerofighter dopo 20 anni una macchina matura capace che riesce a garantire all'aeronautica la possibilità di sviluppare i suoi compiti e la sua attività di difesa aerea ma non solo un pochino in tutti i teatri e in tutti i paesi in cui c'è bisogno di essere presenti quindi veramente un salto epocale. L'Aerofighter è un programma tra i più complessi in Europa che ha dato vita a un assetto dalle rilevanti capacità multiruolo un riferimento operativo che ha segnato in maniera tangibile il cambiamento culturale di un'intera Forza Armata in termini di addestramento sicurezza e quality management. L'Aerofighter Typhoon è tra i più avanzati velivoli da combattimento sviluppato nel continente europeo nato da un progetto di quattro paesi Italia, Germania, Regno Unito e Spagna un sistema d'arma in continuo aggiornamento in grado di rispondere alle differenti sfide dello scenario geopolitico. Vent'anni dopo il loro ingresso in linea i caccia Eurofighter hanno solcato i cieli di tutto il mondo operando in teatri di crisi in supporto alle attività di air policing della NATO e in complessi rischieramenti oltreoceano come quelli che saranno svolti prima in Alaska con l'esercitazione Red Flag e poi nell'Indo-Pacifico in Australia con l'esercitazione Pitch Black. In contesti operativi solo nell'ultimo triennio gli Eurofighter dei quattro stormi dell'aeronautica militare si sono alzati in volo per effettuare intercettazioni reali a salvaguardia dei cieli nazionali ben 50 volte. Nelle ultime attività di air policing per la NATO in Lituania e in Polonia gli scramble nel 2023 a difesa del fianco est dell'Alleanza Atlantica sono stati circa 40. dal 21 febbraio gli Eurofighter sono rischierati a Malbork in Polonia nell'operazione di Enhanced Air Policing dove resteranno fino a luglio 2024 per assicurare il controllo e la salvaguardia del fianco nord-est della NATO. Videonews termina qui vi diamo appuntamento alla prossima settimana buon weekend e la prossima settimana